Direttamente dalla sede dei monopoli di Stato di Piazza Mastai in Roma, questa è l'estrazione del Super Enalotto. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del nuovo Super Enalotto e la sua innovativa formula di gioco. Super Enalotto ha tre grandi novità, tante vincite immediate già al momento della convalida della giocata, si potrà vincere indovinando anche solo due numeri della sestina estratta e soprattutto il jackpot crescerà più velocemente e sarà ancora più ricco. Oggi, martedì 21 giugno, il jackpot ha raggiunto la cifra di 97.417.930 euro, il più alto d'Europa. Le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 74. Inizia il mescolamento automatico delle sfere, stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly, tenete strette le vostre ricevute. E in arrivo il primo numero, il primo numero estratto e il numero 85. Siamo al secondo numero con il nuovo superenalotto, si inizia già a vincere. Il secondo numero estratto è il numero 30. Il terzo numero sta arrivando. Il terzo numero estratto è il numero 31. Pronti per il quarto numero? il quarto numero estratto è il numero 45. E adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite. Il quinto numero estratto è il numero 49. E' il momento di incrociare le dita, stiamo per completare la sestina vincente. Il sesto numero estratto è il numero 4. Dopo i sei numeri che assegnano il jackpot, passiamo ora all'estrazione del numero jolly. Vi ricordo che indovinando questo numero insieme a cinque numeri della sestina vincente, potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1. Il numero jolly di questa sera è il numero 11. Controlliamo insieme la sestina vincente in ordine d'estrazione ed il numero jolly. 85, 30, 31, 45, 49, 4. Numero jolly 11. Ed ora passiamo al numero superstar. Superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata. La sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le sfere da 1 a 90. E ora procediamo con l'ultima estrazione di questa sera. Vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre. Superstar moltiplica le vincite super in all'8 fino a 100 volte e premia anche lo 0 e l'1. Le sfere stanno ruotando nell'urna. Pronti? Il numero superstar di questa sera è il numero 67. Ricontrolliamo tutti i numeri estratti del concorso numero 74 in ordine crescente. 4, 30, 31, 45, 49, 85. Numero jolly 11, superstar 67. L'estrazione di oggi, martedì 21 giugno, termina qui. Diamo il tempo di verificare tutte le giocate. Ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 97 milioni 400 mila euro, il più alto d'Europa, è stato centrato da qualche fortunato giocatore. Ben ritrovati? Abbiamo appena estratto i numeri vincenti del concorso numero 74. Siete pronti a scoprire le vincite di questa sera? Questa estrazione del nuovo super in all'8 assegna 335.477 vincite. Vi ricordo che il jackpot in palio è di oltre 97 milioni 400 mila euro, il più alto d'Europa. Sarà stato centrato il 6? Questa sera il 6 di super in all'8 non è stato realizzato. E il jackpot cresce ancora per arrivare a 98 milioni 400 mila euro. Vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite e le relative quote. Nessun 6, nessun 5 più 1. I 5 sono 4 e vincono 41.810 euro ciascuno. I 4 sono 428 e vincono 396 euro ciascuno. I 3 sono 16.540 e vincono 30 euro ciascuno. I 2 sono 286.769 e vincono 5 euro ciascuno. Ed in questo concorso sono state assegnate ben 11.981 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuna. Una delle grandi novità della nuova formula di gioco. Scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar. Nessun 5 stella. L'unico 4 stella si aggiudica 39.627 euro. I 3 stella sono 70 e vincono 3.095 euro ciascuno. 100 euro vanno ai 1.354 2 stella. 10 euro vanno ai 9.097 1 stella. 5 euro vanno ai 21.214 0 stella. Vi ringrazio per essere stati con noi. Il nuovo Super Enalotto vi dà appuntamento a giovedì 23 giugno. Giocheremo per un jackpot di 98.400.000 euro. Arrivederci! Giocheremo per un appuntamento a giovedì 23 giugno.